Tutte le forze di maggioranza di Terra Nuova Bracciolini chiedono all'attuale primo cittadino Sergio Chenni la disponibilità a candidarsi alla carica di sindaco per le elezioni amministrative di giugno. Tale decisione, si legge nel comunicato del centro-sinistra, nasce dalla forte convinzione che la sua figura rappresenti la migliore soluzione possibile per capacità di governo e di inclusione. Siamo certi che occorre dare continuità al lavoro fatto in questi anni dall'amministrazione, proiettandolo in un futuro prossimo che racchiude in sé tante opportunità. Per questo riteniamo che Terra Nuova debba contare su una guida competente e dinamica, che conosca a fondo il tessuto economico e sociale e che sia in grado di unire e trovare il consenso al di là delle appartenenze. Sono state realizzate opere importanti e avviati cantieri strategici per il futuro della città. Allo stesso tempo sono stati valorizzati e implementati servizi educativi e sociali che ci rendono una città inclusiva e solidale. Insomma, un operato di questa amministrazione che riceve, continua la nota, un parere diffusamente positivo. Il sindaco, dal canto suo, non ha ancora risposto, perlomeno non in maniera ufficiale. Sicuramente lo farà nell'arco di qualche giorno. Il suo assenso alla candidatura riporterebbe un clima più sereno in casa del centro-sinistra, dove ultimamente le acque sono state piuttosto agitate. Sicuramente lo farà nell'arco di un'arco di un'arco di un'arco di un'arco. Sicuramente lo farà nell'arco di un'arco 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 di